È morta all'età di 90 anni Imelda Calzavara, mamma del vice sindaco di Vigonza Damiano Gottardello, è ispirata a casa circondata dai figli e dai nipoti dopo un breve ricovero di due settimane all'ospedale di Rovereto. La signora Imelda era molto legata alla famiglia e aveva un grande senso per l'ambiente. Questo ricorda il figlio Damiano a cui si stringe tutta la comunità di Vigonza.